Tutte le impostazioni, tutti i cittadini possono andare a tutte le impostazioni. Parte anche a Fano e nei comuni limitrofi come Mondolfo, San Costanzo, Cartoceto e Monbaroccio lo screening di massa, gratuito e su base volontaria, organizzato dalla Regione Marche e Asur. Dall'8 al 13 gennaio, inclusi nella città della Fortuna, tutti i cittadini, salvo le eccezioni in sovraimpressione, potranno recarsi dalle ore 8 alle 13 e dalle 15 alle 19 ad effettuare i test antigenici rapidi nelle location individuate, che a Fano sono due, il Codma situato in via Tommaso Campanella 1 e la palestra Venturini in via San Paterniano. Per partecipare sarà sufficiente presentarsi sul posto con il modulo precompilato richiesta test antigenico rapido Covid-19, scaricabile dal sito dei comuni, ma che è possibile trovare anche nelle farmacie, nei centri sociali e nelle parrocchie. Per chi ha difficoltare per irne una copia, il modulo sarà distribuito dai volontari della protezione civile presenti all'esterno della struttura. Tutti i cittadini potranno portarsi in qualsiasi di queste postazioni, che siano di San Costanza, di Mondolfo, di Fano, di Cartocetto o di Monbaroccio. Ovviamente invitiamo ad andare in quelle più vicine. Ci aspettiamo una percentuale di aderenza superiore a quella che abbiamo avuto su Pesaro e Urbino, perché non siamo sotto le feste, le feste sono quasi finite, quindi anche il cittadino che pensava di andare a fare il tampone, poi era positivo, non poteva circolare. Ok, speriamo che questa volta si renda consapevole che è più importante fare il tampone che pensare ad altre cose, quindi speriamo in una percentuale di adesioni intorno al 30%. La Regione Marche ha poi aggiunto l'assessore regionale Stefano Aguzzi, ha messo in campo uno sforzo unico e inedito a livello nazionale. Stiamo facendo un lavoro enorme, adesso tocca ai cittadini. Noi siamo sulla soglia di un indice RT che sfiora l'1%, era 0,99 l'altro giorno. Oggi per andare in zona arancione deve arrivare un indice RT dell'1,25% e per andare in zona rossa dell'1,50%. Il Governo sta pensando di abbassare per la zona rossa 1,25% e per la zona arancione a 1%. Quindi vuol dire che le Marche, come la maggior parte delle regioni, nei prossimi giorni se non fermeremo i contagi, andranno sicuramente in zona arancione ma probabilmente anche in zona rossa e magari anche per parecchio tempo. Per questo torno a fare un richiamo ai cittadini a partecipare allo screening di massa perché è fondamentale isolare a monte chi è positivo.